Paolo Castellani, 44 anni, nato a San Vito al Tagliamento e residente a Codroipo, ha confessato l'omicidio della moglie Elisabetta Molaro, di 40 anni. Lo ha reso noto un comunicato dell'autorità giudiziaria. Alla presenza dell'avvocato difensore, fa sapere la procura di Udine, l'uomo è stato sottoposto a interrogatorio e ha ammesso la propria responsabilità e ricostruito in maniera dettagliata i momenti precedenti e successivi all'evento delittuoso. Con il passare delle ore si vanno delineando nel dettaglio anche altri particolari della tragedia. L'uomo è stato rintracciato dai carabinieri ore dopo l'omicidio della moglie a distanza di 4 chilometri dall'abitazione, seminudo e in stato confusionale. Alle mani presentava lievi e lesioni. Al termine delle formalità di rito, Castellani è stato chiuso nella casa circondariale di Belluno. Nei prossimi giorni la procura della Repubblica di Udine avvierà l'iter per la richiesta di convalida del provvedimento restrittivo. Elisabetta Molaro è stata uccisa con decine di coltellate al collo e al torace e lo rende noto la procura di Udine ricostruendo la tragedia in una nota. Subito dopo l'uomo si è allontanato su un'auto che i carabinieri hanno rintracciato nei pressi del fiume Stella. Proprio nel fiume, grazie ai vigili del fuoco, è stata trovata la probabile arma del delitto, un coltello da cucina di 27 centimetri. Ieri sera la vittima, agente assicurativo, era uscita con un'amica, rientrando piuttosto tardi. Ne è scaturita una discussione al culmine della quale l'uomo, commesso in un negozio, ha afferrato il coltello e ha sferrato i colpi.